Wow! Ma solo un Twix? Vabbè. Vabbè, è sempre bello di niente. Mmm, che buono! Sembra che qualcuno abbia molta fame. Ehi, attenzione, mi ha colpito! Eh, lo farò di nuovo se considerate di disturbarmi. Mmm, ho pensato a qualcosa. Oh, guardate qui! Oh, paura! Ma cosa stai facendo? Rilassatevi! Mi serve per tagliare il mio Twix. Attenzione! Dai, le briccile volano ovunque! Ah, ecco! Fatto! Dai, un altro taglio. Mmm, così è ancora più comodo da mangiare. Mmm, che bello! Mmm, cioè, sporcate tutte! Eh, vabbè, mi dispiace. È venuto fuori per caso. Vabbè, ora mangio. Mmm, allora, così... Oh, fantastico! Mmm, è troppo buono! Mi piace da morire, però è finito. Eh, vabbè. E allora... Tocca a me. Allora tolgo tutto. E... Provo! Come sono? Mmm, ma... Vediamo. Oh, che buono! Nessuno mi può fermare! Per fortuna ho tante barrete! Che bello! Oh, però... Mi è venuto in mente qualcosa. Ah, che male! Vabbè, scusate. Ecco, così sarà ancora più buono. È un'ottima combinazione. Metto dentro tutto... E bevo. Oh, che buono! Mi piace! È troppo, troppo buono. Mi piacerebbe provare. Vabbè. Ma... Ora tocca a me. Ah, so già cosa fare. Allora soffio... Così! Wow! Ma com'hai fatto? Fantastico! Allora... E ora... Iniziamo la costruzione. Avrò bisogno, ok... Di cemento dolce. Cioè, la Nutella. Mmm, che profumino! Sono sicura che la pasta è ottima. Aggiunta al Twix. Guardate come siete bene i mattoncini! Mmm... Allora, adesso il tocco finale. Così! Fantastico! Che torre altissimo! Ma dobbiamo provarla? Ma so! Ma perché? Perché la metto? La traballa? Cosa stanno facendo? Ma cosa? No, sta per cadere! Fermatevi! No! A quanto pare avremmo dovuto darla retta. Adesso vi prendo! Scusate, non abbiamo potuto farla meno. Per fortuna ho indossato il casco e non mi sono fatta male. Wow! Occhi di marmellata! Sì, non prenderò il più orale. Io ne ho solo uno. Qualcuno ha preso di nuovo la persona più piccola. Dai, smettetelo di ridere! Non c'è niente da ridere! Che problema c'è? Era solo una battuta! Non avresti dovuto sbattermelo in faccia. Mmm... Ma so cosa fare? Vediamo se ti piace lo scherzo. Ahah, sarà un po' inquietante. Vedremo. Aiutatemi! Emma, cosa è successo? È il tuo occhio? Che incovo! Ahah, spaventoso, vero? Ma perché mi hai lacciato l'occhio? Ups! Credo che era il mio scherzo. E ora? Emma! Grazie al cielo! Ma? Cos'è? È un occhio! Vabbè, per fortuna era una battuta normale. Ho già avuto il tempo di dargli matto. A proposito, gli occhi sono buoni. Mi piacerebbe sicuramente. Peccato che non mi sia rimasto altro. Allora è il mio turno. Spero che mi piaccia. Sì, sono deliziosi. Adoro la marmellata. Eh, ma... Come stai facendo? Noe! Vabbè, tocca a me. Di cento occhi sono miei. Come sono morbidi e dolci. Mi piacciono. Non voglio fermarmi. Ma puoi condividerlo con me, per favore? Sì! No! Per favore! No! Mi dispiace, ma è troppo tardi. Ma... Cosa? Mi sento un po' strana. Cos'è quello? Mamma! Cosa si è suddita la mia faccia? Sembra che qualcuno abbia mangiato troppo. Solo una patazzina. Guardate qui. Avete mai visto così tante patazzine? Vedo che qualcuno è sfortunato. Vabbè, è vero. Non riesco nemmeno a prenderla. Ma... Vingo! Vediamo adesso. Cosa stai facendo? Ha bisogno di una lente di ingrandimento. Con questa posso mangiare. Evviva! Sono riuscita a prendere la patazzina. Cercherò di stendere il piacere il più possibile. Ma cosa ridete? Vabbè. Io adesso ti faccio vedere come si mangia. Ma... Non riesco... Ad aprire. Ma... Ma... Dai, su! No, la apro così allora. Ecco. Ce l'ho fatta. Ma... Adesso... La mangio. Così. Avete visto di cosa sono camace? Wow, fantastico! Ma che bella! Certo che sì, sono la maestra. La mia testa... Va tutto circola. Credo che hai bisogno di un po'... Di pratica. Vabbè. Allora... Adesso mangerò io le mie patazzine. Eh, ma... No, che male! Ma puoi condividere con me? Eh, no, scusa. Non riesco a sentirti. No, non mi sembra di avere il tempo giusto. Oh, che buono! Non riesco a smettere! Attenzione! Mi hai quasi colpito di nuovo! Basta! Basta! Non possiamo considerare così! Ah, che male! Che fortunata che sono! Non saltare alle conclusioni! Le sta bene! Ha avuto ciò che si meritava! Broccoli! Dici sul serio! E io ho una specie di sema al posto di broccolo. Ma cosa ci devo fare? Non ne ho idea. Vabbè. Mangio così. Ma non riesco a masticarlo! Ah, cosa stai facendo? Pensi che dovremmo metterlo qui. Ma smettilo! Ma cosa stai facendo? Devo scavare un buco profondo, altrimenti la pianta non cresce. Ma siamo tutte rincoperti adesso. Vabbè, è così? Anche questo è fatto. Credo davvero che ne verrà fuori qualcosa. Vabbè, lo scopriremo. Ma nel frattempo, mangia! Che odore disgustoso! Odio le verdure! Ma sono così sgradevole! Vabbè, per fortuna ho preso la porzione piccola. Vabbè, ma no! Ho bisogno della Coca-Cola subito, eh! Questo mi farà sentire meglio. Debbie, per favore! Devo innaffiare la mia pianta! Ha bisogno dell'umidità! Ehm... Questo è servito? Sì! Guarda! È cresciuta! Ma non è possibile! Che bello! Assaggia allora! Buon appetito! Ecco, sapevo che sarebbe finito così! Ma non mi piacciono i broccoli! Io odio! Ehi, è disgustoso! Anche solo da guardare! Sei ricoperto di terra! Vabbè, ora tocca a te! Penso di sapere come mangiare tutto! Guarda, c'è un uccellino! Allora, adesso... L'ingannerò un po'! Farò finta di mangiare! Ma butterò tutto quanto via! Ah! Pensi di potermi ingannare? Ah-ah! No! Dovrei mangiare tutto quanto! Ecco, ho quasi finito! Rimane solo un boccone! Ah, no! Guarda! Il resto... Mangia! Non ringraziarmi! Beh, sembra che il mio piano sia fallito! Sono stata declassificata! Eh, non distrarti e mangia! Ah, gli Skittles sono fantastici! Eh, ma io ho una porzione piccola! Vabbè, per quanto essere triste, mangia tu per prima! Perdente! Vabbè, ride bene quello che ride per ultimo! Sa cosa fare? Eh, ma a cosa serve il telefono? Ah, adesso lo vedrete! Così posso ingrandire un po' la mia caramella! Wow, non sapevo che fosse possibile! Mmm, c'è ancora solo una caramella, ma è così grande! Mi piace molto, eh! Buono! Wow, ma questo tipo di marmellata mi piace, eh! Sei bravissima! Allora, mangia! Anche io ho un grande piano! Prenderò le caramelle con la bocca! Eh, mi è sfuggito tutto! Vabbè, non importa! Ah, ah! E non lo farò, perché ho trovato qualcosa di meglio! Ma smettila, sono mie! Le mangerò io stessa! Ma con qual colore dovrei iniziare? Ce ne sono tanti? Con questo? Oh, con questo! Ah, so cosa fare! Ma che diavolo è questo? Mmm, allora... Prendo uno perché è la tombola che mi dirà cosa fare! Allora, c'è una caramella arancione all'interno! Ah, cosa significa? Solo una cosa! Ora so cosa scegliere! Voglio le caramelle arancioni! Eh, che sapori hanno? Ti piacciono? Molto! Ora non mi interessa affatto l'ordine in cui mangiare le caramelle! Allora, forse giocherò anch'io! Wow! Guardate! Cosa c'è qui dentro? Wow, hai tirato fuori la palla fortunata! Ah, ho sognato tanto! Una caramella enorme! E finalmente il mio sogno si è avverato! Che bello! Guardate! Quante caramelle ce ne sono all'interno! Ma condividi con me, per favore! E anche con me! È una grande idea! Non mi dispiace! Prendete! Mmm, ok! Grazie mille! Proviamo adesso! Oh, che buono! Vabbè! Penso di essere affortunata oggi! Dai, su! Non deludermi! Vole qualcosa di buono! Skiddle! Sì! Che raffortuna dalla mia parte! Anch'io devo essere affortunata! Vole qualcosa di buono! Affinché mi sia gelosa! Dai, su! Cosa? No! Eh, cibo per i gatti! Non è quello che voleva! Ti sta bene, Jennifer! Oh, no! Vole una cosa buona! Un pulsante magico! Dai, premiamolo! Oh, che succede? Ed ecco, i miei ospiti! È un piacere darvi il benvenuto! Dai, provate il bottone! Io scelgo quell'arancione! E sarò affortunata! Eh, ottima scelta, Jennifer! Ed è Nutella! Sì, sei davvero fortunata! Perché io ho un entero secchio di Nutella! Ed è tutta tua! Oh, che profumino! Che Nutella! Ah, questo gusto non lo potrei scambiare con niente! Dai, su! Ancora, pagliaccio! Su! Come vuoi! Ecco, è tutto fino all'ultimo goccio! Scusa! Oh! Beh, la Nutella è finita! Beh, allora... Se Jennifer è stata fortunata, anch'io sarò fortunatissima! Wow, hai ragione mia! Avrai i marshmallow! Ne ho un pacco enorme! Beh, così non rimarrei affamata! Oh, che bello! Voglio vendere con la bocca! Eh, ce l'ho fatta! Ho avuto un'idea geniale! Jennifer! Vieni qui! Mia, che fai? Dai, su! Non brontolare! Vedi, il marshmallow senza Nutella! Non so niente! Che buono! È un'ottima idea! Oh! Quanto marshmallow che ha! Forse le condividerà con me! Mia, ciao! Ma puoi condividere con me? Vuoi dei marshmallow? Perché no? Ecco a te! Grazie! Eh? Cosa hai fatto? E voglio condividere con te! Sono miei! E io lo mangerò da sola! Ok, ah! Vedo che sei! Adesso avrò i miei marshmallow! No, dai, su! Vabbè, non avrai i marshmallow! Cos'è? La mia testa! Attenzione! Ah, non sono i marshmallow! No! Ah! È la carta igienica! Uh! Ho avuto un piano geniale! Così saprà come sarà! Ah! Cosa è la carta igienica? Ah! Cos'è questa? Ah! Devo fare attenzione alle tue prelevadezze! Ma sono sporca! Ah! Voglio pulirmi! Eh! Niente doccia! E adesso devi premere il pulsante! Vabbè, ne premo due! Mmm! Interessante! Ah! Il miele con la farina! Eh! Sarà molto bello! Allora! Ecco il miele! Oh! Cos'è? Ah! Ha un sapore così dolce! È miele! Lo adoro! Sono felice! E adesso è la parte più divertente! Mmm! Buonissima! Eh! Non muoversi! Oh! What? Qualcosa di bianco! Eh! Cos'è? Ne? No! È farina! Hai indovinato! Buon divertimento! Cosa devo godere qui? Non lo so mia! Ma sei fantastica! Dai! Su! Meno parole! Più azione Jennifer! Questo qui rosa sembra in acqua! Eh! Sì! Guarda! Cosa hai! Congratulazioni! Uh! Sono felice! Allora! Non ti faccio aspettare! Apri la bocca Jennifer! Buono! Buon divertimento caro! Eh! Vedi com'è la vita! Ah! Il secchiello di lantella! Posso mettere lì gli anelli! E sarà più facile da mangiare! Sì! Che buono! Io li vorrei mangiare ogni giorno! Siamo! Beh Jennifer! Sono felice che tu sei contenta! E per essere ancora più contenta? Voglio aggiungere ancora un po'! Oh! Cosa? Ah! Ho capito! Il lot! Naturalmente! Senti l'agente Jennifer! Ecco! Un'altra cosa! Ok! Metto il secchiello! E così posso mangiare! Che buono! Dei! Pagliaccio io! Guarda! Io ho premuto il pulsante! Dammi qualcosa! Eh! Scusa! Ma non penso che ti piacerà il cibo per i cani! Però sarà divertente! Oh! Che schifo! Non volevo! No! Basta! 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 Non ce la faccio più! Non voglio accettare più a questo gioco! Eh! Vabbè mia! Qui sono le mie regole! Quando uscirò? Stai lontano da me! Che ridere mie! Io devo premere i pulsanti! Io! Ne premo due! Eh! Sì! Guarda! Bah! Eh! Mi piace! Però! Ah! Cos'è? Che male! Sono di sassi! No! Sono le uova! Perché sono sfortunata! Non sulla faccia! Jennifer! Ti piace? Vabbè! Hai premuto due pulsanti! Cosa? Non è tutto? Eh! No! Le piume! Ah! No! È così tante! Ah! Sono sfortunata! Cos'è mio! Ad un pollo! Ecco cosa mi hai fatto! Pagliacce! Eh! Le piume ci stanno bene! E perché rigi? Il pulsante è mia! Vai! Vabbè! Scegno questo! Che fortuna! Cabasca! Mia segnitura! E non aprire la bucca! Grazie per il suggerimento! Potevi evitare di versare me addosso a questa salsa! Eh! Queste le regole mie! Per questo devi essere paziente! È finita! Oh! No! Ah! Sono in fiamma! Incredibile! Aiuto! Aiuto! Oh! Non dovevi inzupparmi della salsa! Va bene mia! Ti aiuto io! Ma... Guarda! Sono un vero pompiere! E devo spegnere le fiamme! Oh! Grazie! Ora sono tutta quanta bagnata! Ma comunque non c'è fuoco! Grazie! Fantastica! Questa sfida è un successo! Wow! È bellissima! Adoro questo posto! Ok! Arriva la nostra fontana in cioccolato! Siete pronti a competere per questa volta! Vi avverto che non sarà facile! Dovete mettere le mani dietro la schiena! Complimenti! Siete pronti e andiamo! Ok! Buona fortuna! Ok! Per prima cosa dobbiamo... Sì! Aprire i pinarelli! Ma... Come ce l'avete fatto? Ma perché? Dai su! Vi raggiungo subito! Ok! Mi capo abbastanza bene! Vediamo come sta mira! Le basi sono già pronti! Ma non mi piace affatto! C'è qualcosa che non va! Dai! Ah! Lo so! Devo usare il pinarello! Avete visto con quanta abilità ho tolto il tappo? Ma è un'ottima idea! Così? Posso farlo anch'io? Cos'è stato? Perché Jennifer è caduta? Ma io volevo togliere il coperchio e il mio pinarello e beh sono caduto! E mi è di nuovo un passo avanti a me! Sto facendo una bellissima fontana! Cosa devo fare? Ah! Lo so! Così! Questa bimba mi aiuta! Sta per stare un gironino! Guarda cosa ci ho fatto! Ma perché? Jennifer! Come hai potuto? Kate! Ma perché stai ridendo? Ma è così divertente! Divertente! Dici? Non credo proprio! Mia! Ma perché mi spruzzi la vernice addosso? Questo sì che è divertente! E posso anche schizzare sopra il tuo disegno! Jennifer! Ma cosa stai guardando? Guarda! Non credo che... C'è ancora il tempo! Ragazzi il tempo è scaduto! Ok! Vediamo! Bene! Bene! Vediamo! Cosa avete qui? Ma mi ha rovinato il disegno! Spero che non sarebbe piaciuto! Vabbè! Temo che anche il mio lavoro non sarà dei migliori! Tutto è grazie a Jennifer! Dai ragazzi! Ma mi fate arrabbiare! Sono sicura che il mio vi piacerà! Onestamente non c'è morsi da scegliere! Ok Jennifer hai vinto tu! Prendi la fontana! Wow! È così grande! Invidiosi di me siete perdenzi! Voglio provare il cioccolato! Che buono che è! Dai! Non dobbiamo limitarci a guardare! Dobbiamo rubare il cioccolato! Sbrilliamoci prima che se la beve tutta sola! Ed è brillante mia! È gustoso! Ma... Dove è finito il mio cioccolato? Abbiamo deciso di... Darci la mano! Ma non è giusto! Vi presento il vostro nuovo premio! Non è molto carino! Sì è un vero angelo! Dai vieni qui amico mio! Ma che attrazione di sorpresa è questa? Dobbiamo davvero dipingere la catta? Mia! Sei così intelligente! Brava! Andate! Ah sì! Non ho un bel aspetto! Non voglio soltamente disegnarla! Ma ci provo! Non ci sono comunque altre opzioni! Inoltre non credo che sarà difficile! Ok sono rimasta indietro! Dobbiamo recuperarla presto! Penso che disegnare con i piedi sia meglio che disegnare con la bocca! Ma dove viene fuori questa puzza? Ah che schifo mia! Ottimo! Ho già eliminato il rivale! Ora posso dedicarmi alla pittura! La mia possibilità di non incontrare quella brutta cosa aumentano di secondo in secondo! È sufficiente un piccolo sforzo! Dai ecco! Mi sto cavando bene! Dai su e viva! Finalmente ce l'ho fatta! Ecco sono un passo alla vittoria! Andiamo! No ho perso il pinarello! Ma dove è finito? Vabbè dai! Prendo un altro colore! Vediamo! Ma non ci riesco! Ma che razza di funzione è questa? Wow mira! È quasi finito! Il tempo sta per scadere! Fermatevi! Deve è il tuo lavoro? Oh no! Non ho avuto il tempo di far nulla! Io invece... Dai su! Sono preparata! Va! Forse alla fine mi piace il mio! Ma così così vediamo! Ci ho provato con tutte le mie forze! Si vede! Ben fatto mia! Ah che ora è? Credo di aver dormito troppo! Wow! È ora di mostrare il lavoro? Dai non ti preoccupare! Ho già capito tutto! Ha perso! Ok! Oh no! Non era colpa mia! Ero senza emozione! Stavo male! Dai! Ma devo proprio mangiarlo! Sembra disgustosa! Non riesco neanche ad immaginare! E ci sa pure! Vabbè lo provo a leccare! Però dai! È dolce! Non è così male! È pasta di cioccolato! Sono pronta a mangiarla dalla mattina da sera! È delizioso! Splendido! Ma cosa stai facendo? Smizzela! Non sapete quanto sia buona! Buona! Sto per vomitare! Meglio non donarsi! Volete provare? Ok! Here we go! Ecco che arrivo! Un altro premio! Oh! Così bello! Sofficio e adorabile! Dai! Si ezi qui piccola! Dovremmo aspettare un po' prima che le ragazze facciano il loro lavoro! Tra l'altro li dipingeranno direttamente sul miso! Andiamo! Oh! Sarà mio! Vedrete! Siamo fatte una per l'altra! Ecco! Penso al trucco! L'amico mi si addica molto bene! Non ho bisogno di una mazzetta bianca! Preferisco usare quella blu! Guardate com'è bella! Ecco fatto! Ora passo agli occhi! Ci sto davvero bene! Spero che sia bene anche a me! Non avete comunque alcuna possibilità di vincere! Rilassatevi! Bisognerò guardandomi allo specchio! È molto facile! Nessuno può battermi! Beh! Ho già fatto la maggior parte del mio disegno! Jennifer! Come sta? Non so cosa verrà fuori! Ma mi piace molto il processo! Anch'io! Ci puoi scommettere perché stai usando uno specchio! È ingiusto! Ma perché mi hai spinto Mia? Guarda cosa sta succedendo! Non è giusto! Questo è certo! Dobbiamo darlo una lezione! Così non infrangerà più le regole! Kate! C'hai costretta a farlo! Mi dispiace! No! Smettetela! Mia! Per favore! Mi disegno! No! Ma perché? Ci ho lavorato molto! Almeno non infrangerai più le regole! Sembra che Mia sia già sicura della sua vittoria! Non mi piace! Ehi Mia! Posso distrarsi! Credo che il tuo disegno sia un po' fuori luogo! Ma non preoccuparti! Vittorio io! Lo sistemiamo subito! Che succede? Cosa stai facendo? Come sta adesso? Meglio! Molto meglio! È completamente diverso! Ok! Vedo che tutti sono pronti! È fantastico! Perché il tempo sta per scadere! Dai! Ma... Com'è? Dai! Non guardare così segno! Eh! Questo è ancora peggio! No! Ma davvero? Ma Jennifer ha risolto il problema! Mi ha ingannato! Non capisco cosa stia succedendo là! Sembra che non abbiamo molto scelto! Jennifer ha vinto! Dai! Prendilo! E vai! Ce l'ho fatto! Che bello che sei! Vieni qui amore mio! Ma perché voglio strontire? Jennifer! Tu sei allergica! Meglio così! Possiamo tenere il gattino! Non sto molto bene! Dai! Su! Vai a riposare! Wow! Un sacco di salsa! Avete già capito! Con cose dipingerete! È arrivato il momento di mostrarvi... Cosa? Un enorme pesce crudo! Non credo che nessuno le voglia! Ok! Dovete... Fare... Delle vostre peggio! Le salse sono tutte vostre! Buona fortuna! Sono pronte a combattere fino all'ultima! Eh... Non sei l'unica mia! Ma che succede? Jennifer! Guarda! Ma... Ma... Mi stai giuttando la spavatura in faccia! Oh! Mi dispiace! Non me l'aspettavo! Questo è semplicemente scandaloso! Spero di non essere interrotto da nessun altro di voi! È ora di continuare a disegnare! Vediamo cosa abbiamo qui! Sì! Ketchup! Sembra molto bello! Un tocco di classe sulla carta! Penso che userò questo! Sì! Mi piace di più il giallo! Continuerò a farlo! Guardate come è bello! È giusto così! Tra l'altro è un vero piacere dipingere con questo colore! È così bello! Peccato che la salsa sia finita così in fretta! Devo prenderne un po'! Vediamo! Ah! La se ne sta! Perfetta! È una tonalità un po' diversa! Ma... Mi piace comunque! E io ci metto il ketchup in mezzo! È un'ottima commendazione di colore! Non posso assolutamente permettere che qualcuno mi dica che è brutto! Wow! Mila! Già un disegno è finito! Sì! Non mi resta molto da fare gli ultimi ritocchi! A quanto pare sono rimasta indietro! Devo pensare a qualcosa! Ecco! Così! Dipingerò con tutte le dita! Ma che profumino delizioso! Non posso far nemmeno di provare! Ottimo! Non riesco a staccarmi! Io voglio ancora e ancora! Mi sta venendo un grande appetito! Cosa sta facendo? Jennifer! Non riesco a staccarmi! Non riesco a staccarmi! Sopra sopra il mio disegno! Non riesco a staccarmi! Dobbiamo cambiare disegno! Ma io so cosa farò! Ma io so cosa farò! Posso cucinare questo pesce! Così sarà molto più buono! Vediamo! Se è facile o meno! Se è facile o meno! Che croce delizioso! Che croce delizioso! Che croce delizioso! Voglio provarlo! Ehm... Anch'io voglio provarlo! Troppo tardi! Io ho procurato questo pesce e quindi io me lo mangio! Che tè!